Il primo dibattito è in vista delle elezioni europee in programma dal 6 al 9 giugno degli Spitzenkandidat dei principali gruppi europei. A Maastricht si sono scontrati sui temi chiave del voto europeo. Green Deal, la guerra tra Israele e Hamas, la migrazione irregolare, l'intelligenza artificiale e TikTok. Sul palco i candidati alla presidenza della Commissione Europea proposti dai vari gruppi politici, da Ursula von der Leyen a Nicolas Schmitt. I principali candidati hanno presentato le loro diverse posizioni politiche. Il punto comune è stato l'attacco al candidato dell'estrema destra, Anders Vistisen. Tra i temi caldi, anche la politica estera, tensioni su Ucraina e Gaza. La questione che ho chiesto di domande, quando la Unione Europea metterà a Israele per stoppare la guerra in Gaza? Per vedere qualsi inocenti civiliari sono morti, soprattutto i bambini, è nonostante e nonostante. E per questo bisogna una città, bisogna una città, bisogna una città, bisogna una città, bisogna una città soluzione, perché questa è l'unica soluzione che farà peace alla regione. Well, a robust enough debate tonight, particularly on some of the issues around common foreign and defence policy, how to fund Ukraine, whether there's enough criticism by the EU of the high death toll among civilians in Gaza, how to tackle antisemitism across Europe, and also the environment, how to protect the Green Deal, while also answering the demands of farmers. No doubt, these issues will be thrashed out again and again over the next few weeks. Shona Murray, Euronews, Maastricht. Euronews, Maastricht.